A tutti i telespettatori di Tela Radio Padre Pio, da parte dei nostri confratelli Capucini e di tutta qui, Tela Radio Padre Pio, un augurio di Buon Natale, di un Natale sereno, di un Natale gioioso, di un Natale nella gioia del Signore che viene a salvarci e che bussa alle nostre porte e vuole che ognuno di noi lo accolga. Ecco, un Natale col senso dello stupore, della meraviglia dinanzi a questo mistero insondabile dell'incarnazione e della nascita del Figlio di Dio che si fa uomo per ciascuno di noi. Aguri e Buon Natale a tutti. Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita. Auguri di Buon Natale, che sia un Natale di gioia a tutti voi, cari telespettatori di Padre Pio TV. Buon Natale! Viali e affettuosi auguri di Santo e Buon Natale a tutti i telespettatori di Padre Pio TV, perché la luce che si sprigiona nella notte santa dalla grotta di Betlemme possa illuminare la vita di ognuno di noi in un contesto particolarmente difficile per ciascuno. Auguri e Buon Natale a tutti. A tutti voi, amici di Padre Pio TV, che con grande affetto ci seguite tutti i giorni, auguro un Natale pieno di amore, gioia e serenità. Grazie a tutti, auguri e buon Natale a tutti i studi. Auguri e buon Natale per tutti i nostri contenuti, auguri e buon Natale. lì. A tutti voi amici di Padre Pio TV l'augurio più sincero di un sereno Natale in compagnia delle vostre famiglie con un pensiero rivolto anche a chi non ha questa possibilità. Auguri a tutti voi ancora, Buon Natale e un felice anno nuovo. Stefania, tanti auguri. Auguri! Allora non mi resta altro che dire a tutti quanti voi ancora una volta tanti cari auguri di Buon Natale e pace e bene come sempre. E tu cosa? Credo che qui c'è Francesco Posse, il mio collaboratore che sta facendo anche lui delle riprese. Gli auguri, gli auguri ai telespettatori. Tu vuoi gli auguri, ma io gli do ai cari telespettatori i miei cari auguri. Già ho approfittato in tutte le mie trasmissioni di farvi i miei più cari auguri e poi li faccio anche ancora una volta per tutto il periodo natalizio. Tanti tanti cari auguri di serenità, di gioia, di pace, di benessere, di tutto ciò che il vostro cuore desidera che Gesù Bambino entri pienamente nelle vostre case e dia il sorriso a tutti quanti voi. Buon Natale a tutti! Grazie a tutti!